Evacuata dai vigili del fuoco e dagli uomini della polizia locale una palazzina pericolante di tre piani al numero 18 di via Turritana, dove vivono sei adulti e tre bambini in tenere età, uno e addirittura un neonato. Lo stabile di proprietà di un sassarese di 63 anni che ha diversi appartamenti al centro storico, tutti in condizioni precarie, era già stato allertato dalle forze dell'ordine e gli era stato consegnato un provvedimento in cui lo si invitava a liberare l'immobile perché è considerato instabile. Questa mattina, considerata la possibilità che si possa verificare il peggio e visto il cedimento del solaio in diverse stanze del primo piano e le precarie condizioni igieniche in cui sono costretti a vivere bambini di due o tre anni e perfino il neonato, si è deciso di allontanare le due famiglie originarie del Bangladesh che vivevano negli appartamenti del secondo e del terzo piano e che saranno ricoverate in una struttura comunale. Allertate anche i servizi sociali per la presenza di minori. L'intervento delle forze dell'ordine si è reso necessario perché già nei mesi scorsi si era verificata la pericolosità dello stabile che si affaccia anche in via Capodoro e che era stato transennato per evitare che il crollo dei cornicioni potesse colpire i passanti.